ciao amici e benvenuti sul mio sito ufficiale www.adamocireldi.it vorrei che fosse chiara una cosa se siete in questo sito è perché avete il bisogno e la necessità di acquistare uno dei miei servizi lavorativi tutto ciò che riguarda la mia conversazione con gli spiriti la mia conversazione con gli angeli ed il mio portato i messaggi d'amore è un servizio completamente gratuito quando incontro le persone per strada quando faccio le mie conferenze gratuite in tutte queste occasioni e in altre occasioni io dono dei messaggi d'amore di speranza in maniera gratuita come ho sempre sostenuto qual è la differenza che se voi volete un servizio dedicato di un'ora di più ore o volete fare un corso eternal che sono tutte cose energetiche spirituali ma che esulano dal mio dono ma che si integrano in quella che la mia vita e la mia quotidianità lavorativa allora è giusto che voi diate un compenso a quello che faccio perché ognuno di noi lavora e ognuno di noi ha bisogno di mantenersi di arrivare alla fine del mese spero che sia chiaro altrimenti puoi uscire da questo sito e trovare delle alternative che siano più di tuo gradimento ciao